bella raga ciao a tutti nel comandone veneziano ragazzi mancano sei partite della Liga e siamo primi con un punto di vantaggio campionato bellissimo andiamo a vedere la classifica adesso perché è un campionato veramente ad alta tensione Atletico Madrid-Elce è la partita di Sente Calerón da vincere assolutamente questa è la partita da vincere senza appello proprio eccola qua Atletico 66, Sociedad 65, Valencia 64, Real-Barcellona 62 che lotta, vai qua uno si ritira dell'Elce ma noi non ce ne fotte niente il nostro unico compito è fare tre punti contro una squadra in casa ampiamente alla nostra portata dobbiamo solo stare tranquilli e non avere troppa fretta Tore, Tore l'accia subito Antoine, mamma mia Antoine, il bello Antoine, 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 cosa fa Antoine? mamma mia subito un miracolo, subito un miracolo del portiere di Lecce si deve portare a casa la Liga il terzo campionato consecutivo per Veneziano attenzione Harry Kane, Kane, ancora miracolo è partito benissimo l'Atletico il piccolo Aaron il piccolo Aaron Turi, Yaya Turi Kane l'Atletico sublime in questo momento l'Atletico sublime sublime l'Atletico Harry Kane Harry Kane bellissimo per Turan Turan e ancora 13 minuti di fuoco dell'Atletico però Antoine Antoine per Harry Kane Harry Kane bellissimo cosa fa Harry per Turè 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 parlo di Turè, incredibile parlo di Turè Corominas Corominas non siamo Corominas vai ragazzi Timo 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 vede Antoine Antoine 53esimo Antoine 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 ma che assist di Werner che assist di Werner 1-0 Atletico esplode il Vicente Calderon esplode il Vicente Calderon 13esimo gol nella Liga via 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 un Q è veramente stellare finalmente finalmente è arrivato il gol adesso non fermiamoci Proveranno con questo nuovo assetto a rimettere in corso in questa gara Corominas Occio ragazzi Occio no non dà lì rigore mamma mia però che brutta mamma mia che brutta pareggio dell'Elce incredibile pareggio dell'Elce stavano dominando e Rocco va a segnare attacco totale pazzesco stiamo buttando via due punti che forse mi costano la Liga Torres non ci credo proprio ho fatto gli ultimi minuti da schifo Coche Coche di rabbia l'Atletico adesso di rabbia di rabbia incredibile incredibile il Vicente Calderon è impietrito impietrito il Vicente impietrito Grande Goresca Goresca l'ultimo sussurro sussulto sussulto e c'è il gol dell'Atletico la riporta sopra Coche ma cosa ha fatto Goresca cosa ha fatto Goresca e torniamo davanti Goresca c'ho e pam Coche la messa e questo è un gol pesante questo è un gol pesante mamma mia mamma mia partita da infarto adesso per piacere teniamola per piacere teniamola madonna i finali di campionato di Veneziano sono incredibili e finisce qua 2 euro vediamo se hanno giocato le altre allora Real Madrid da via siamo ancora 69 68 67 il Barcellona non ha vinto mamma mia vai ragazzi siamo contro il Villareal dopo la partita di infarto contro contro l'Elcef che finale di stagione che finale vai Antoine errore del piccolo Antoine Vietto è Ocio a Vietto è un buon giocatore il piccolo Vietto dos sallos Saul attenzione no 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 gol del Villareal errore scandaloso dell'Atletico gol subito del Villareal al Madrigal mamma mia gol del Villareal incredibile gol del Villareal imbarcata generale Vietto imbarcata generale dell'Atletico ragazzi che risultati del primo tempo incredibilmente il Bilbao batte 1-0 su sedato per il momento Barcellona e Real però vincono il Valencia fermato sullo 0-0 dal Valle Cano sta prendendo Sociedad ma noi dobbiamo assolutamente rimontare perché si è vicino a Barcellona e Real alla fine vai attacco totale la devo rischiare non ho alternative 2-0 veramente pesante dopo male la squadra non è mai stata in partita per adesso attenzione il Villareal continua a fare un gioco meraviglioso attenzione mamma mia gol si salva il portiere speriamo sia un segno Werner Werner vede Miranda va il primo segno Miranda da solo Miranda 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 e c'è subito Griezmann 2-1 c'è subito Griezmann 2-1 l'attacco totale funziona 2-1 quattro dicesimo gol di Antoine grande Miranda ci ha salvato Moia ci ha salvato Moia il gol è di Moia oh Moia come cazzo volete chiamare voi attenzione Hurricane l'uragano The Hurricane fallo però fallo non fischiato di testa di prendere le vene no di testa non è il fenomeno dei fenomeni Timo attenzione ultra offensiva siamo attenti perché chiaramente non possiamo permetterci di prendere gole siamo molto sbilanciati siamo siamo tanto sbilanciati Moia ancora 58esimo Villareal schema corto mamma mia che sofferenza che sofferenza 2-1 per il Villareal ma siamo riusciti a pareggiare l'attacco totale non mi interessa vogliono già difendersi qua si vuole già difendere Villareal vuole già tenere palla dai contropiede ecco il contropiede Antoine è tirata la male ma va bene dai ragazzi che pressing che pressing bravi ragazzi bravi ragazzi bravo Beppe no vedi questi sono i buchi purtroppo ma non abbiamo altre possibilità bravissimo Torre no regalarla così cosa fa erroraccio ancora del Villareale ce la pagheranno con il 2-2 vai Harry anche un pareggio andrebbe benissimo in questa situazione dopo il 2-0 clamoroso del primo tempo dai la rimontata Griezmann Griezmann per Kane ma Kane lento 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 cambi 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 mettiamo Torres al posto di Timo mettiamo il Corre Griezmann non possiamo toglierla e mettiamo Goretzka di qua e facciamo così vai proviamo licenze poetiche come andiamo va bene eh la squadra è stanchissima però bravissimo ancora Ture che si è ambientato ormai aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia bene un quarto d'ora per pareggiarla almeno un quarto d'ora un quarto d'ora bravissimo vai Antoine Antoine vai vogliamo l'uomo della provvidenza Torres e Griezmann fa finta di passare lei va Antoine va Antoine va Antoine va Antoine va Antoine Torres la provvidenza Torres e la pareggia il nino e la pareggia il nino signori che nino signori che nino offensiva signori che nino è sempre il posto giusto il momento giusto il nino che stagione che mi sta combinando non lo vendo chiaramente dopo questa stagione sarà venuto Mazzocchi invece che non mi è proprio piaciuto no errore scandalosamente puro uno dei più puri ragazzi no no adesso fallo bravo Ture otto minuti per l'impresa otto per l'impresa vabbè puerto è il puerto adesso però stiamo subendo di nuovo non capisco il perché aia aiai 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 grandissimo ma è che mi salva ancora ma che cazzo perché le sbagliamo tutte perché no gol del Villareale incredibile gol del Villareale pazzesco 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 gol del Villareale furto completato la potevo almeno pareggiare invece addirittura vado ancora a perderla l'avevo ripreso la riperdo questo è veramente il furto più totale della storia finisce qua ragazzi non ho parole non ho parole il Barcellona ha vinto insomma comunque in testa adesso c'è a sorpresa Valencia Valencia 70 Madrid 69 Madrid 68 68 Barcellona 66 ho buttato via qualcosa di incredibile raga un saluto dal comandone veneziano ciao ciao